Mi hanno detto che prima della nascita visita l'anima c'è il corpo, il posto in cui stiamo, i nostri genitori, le persone che incontramo. La mia deve essere un po' fuori le teste, eppure la sua mi sa. Oh, piano, guarda che non c'è più fisico a fare certe cose, guarda che mi manco sapere più veloce. Dai Pia, beh. Oh, ma dove vai? Oh, no, ancora voglio di scherzare, già? Guarda che stai messa di mamma, è una cosa seria. Oh, no, ancora voglio di scherzare. Ciao. Oh, no, ancora voglio di scherzare. Oh, no, ancora voglio di scherzare. Oh, mia immagini è guardata prima di fung Katharina Percherzo la tua.